un minuto compadre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ecco qui vi stiamo raccontando quello che accadeva al piccolo francesco forgione con beata te pietrilcina qualcuno ha fatto emergere in alcune biografie che già quando era bambino questo ragazzo era un santariello era no francesco era un ragazzo come tutti gli altri un ragazzo a cui piaceva scherzare un ragazzo che piaceva stare ecco in questo suo piccolo lavoro del pastorello piaceva stare ecco con gli animali piaceva stare con gli amici con cui si divertiva tanto è chiaro che allontanava coloro che bestemmiavano allo stesso tempo era un ragazzo a cui piaceva andare in chiesa un ragazzo normalissimo ebbene oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde proprio a casa forgione diciamo tra fratelli fu un fatto che ha raccontato proprio la figlia di michele michele era il più grande dei forgione e lo ha raccontato pia forgione e su questo padre alessandro e padre lino da prata hanno voluto indicare un piccolo episodio che apprendiamo scrivono direttamente da pia forgione raccontatole dal genitore il fratello di padre pio michele razio e mamma peppa dovendosi regare in paese per sbrigare alcune faccende dicono a michele il fratello maggiore di tagliare l'erba per le poche percorelle della famiglia raccomandandogli di non farla tagliare a francesco michele provò disappunto per tale privilegio e disse al fratello e perché la devo fare io lo disse in dialetto fallo tu piglia pure tu e dice scrive in dialetto insomma taglia l'erba francesco ubbidiente prese la falce per tagliare l'erba ma fece per dare i primi colpi e si procurò una ferita ben profonda una ferita che portò per sempre per tutta la sua vita sul sul dito la cicatrice è stata infatti sempre visibile michele sentendosi in colpa come ogni fratello maggiore credo minacciò il fratello perché tacesse sull'accaduto guai a te se parli e con una corteccia d'albero fasciò la ferita al rientro dei genitori francesco non accusò il fratello che si commosse per tanta bontà e riferì spontaneamente l'incidente ai genitori grazie 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 grazie